Si aggirava da giorni nel centro cittadino attirando l'attenzione dei residenti e facendo scattare numerose segnalazioni, poi questa mattina la cattura. Scene singolari a Benevento a pochi metri dall'arco di Traiano per un cinghiale che probabilmente risalito dal vicino fiume Calore è stato catturato dall'asla di Benevento nel cortile di una casa in via Tiengo dove si è rifugiato creando anche numerosi danni al giardino e alle colture. Sono stati veterinari dell'asla a predisporre la trappola in cui l'animale è entrato attirato con del cibo. Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia municipale, i vigili del fuoco che hanno aiutato il presidio di assistenza veterinaria dell'asla a caricare l'animale sul furgone in tutta sicurezza. Il cinghiale, un maschio di circa 70 chili, sarà liberato nella riserva naturale di Cerreta Cognole nel comune di Montesano sulla Marcellata nel Salernitano. Si tratta di animali selvatici che si sono ormai antropizzati, ha spiegato il veterinario Antonio Facchiano, direttore del PAV di San Giorgio del Sagno. Quest'esemplare ha eletto a propria dimora questo spazio, ma chiaramente era necessario riportarlo in un ambiente adeguato. È questo il modo per mettere in sicurezza i cinghiali che si aggirano sul nostro territorio, dichiarato invece il comandante della polizia municipale di Benevento Fioravante Bosco. Nei prossimi giorni ha annunciato ancora una riunione tra gli addetti ai lavori per proseguire nella cattura dei cinghiali e destinarli alla riserva naturale di Cerreta Cognole.